Ragazzi pensavo di non leggere mai questa notizia ma invece è arrivata EA sta pensando al rilascio di Apex Legends su mobile La notizia me l'ha riferita ieri il mio carissimo amico All Mighty che mi ha mandato lo screen della notizia Ragazzi Apex Legends Milioni milioni di giocatori in pochissimi giorni su piattaforma PC ed altro Ed è in arrivo la versione mobile e anche il cross play Appena mi ha detto questa cosa sono andato subito a cercare la notizia o meglio la fonte del tutto Ed è proprio Electronic Arts tramite il SEO Andrew Wilson Che afferma durante la conferenza con Electronic Arts Che stanno pensando a come portare il gioco raga su dispositivi mobili e creare il cross play Questa notizia sicuramente a qualcuno di voi non interessa perché gioca solamente su PC e console Mentre tanti altri per il mobile mostreranno interesse Quando è uscito Fortnite mai ho pensato nella vita che sarebbe arrivato anche su mobile E quando è arrivato molti mi avete seguito per stare aggiornati sulle notizie del rilascio Soprattutto su Android Ancora oggi mi chiedete Dragon c'è per questo dispositivo Android Alla quale purtroppo non ho risposta perché Epic Games non ci ha detto più nulla Essendo che il gioco in realtà su Android è ancora in beta Cosa ne dite di questa notizia? Vi interessa oppure non vi interessa affatto? Fatemelo sapere qua sotto con un bel commentino Mi chiedete subito Dragon ma su quali dispositivi funzionerà? Diciamo che andrà allo stesso modo come per Fortnite Mobile Più all'inizio magari per i dispositivi Quelli un po' più di fascia alta, medio alta anzi E magari poi più avanti con i dispositivi più bassini, meno performanti Raga dopo il successo di PUBG e anche di Fortnite Che sono passati da macchine a mobile Anche Apex Legends a quanto pare ha detto Va bene, facciamolo anche noi Quindi raga non vedo l'ora di giocarci Io non vedo l'ora di sapere quando sarà la data di rilascio Perché sicuramente essendo che io amo i giochi mobile Ci giocherò assolutamente Anche perché io Apex Legends raga è un gioco che ritengo valido Ho visto tra l'altro ieri che c'è stato un campionato Quindi GG raga gli italiani che hanno partecipato E ho visto che comunque molti di voi ad Apex erano interessati Anche se negli scorsi video molti mi hanno scritto Dragon a me Apex non interessa Ma siccome sapete che ripeto io amo i giochi mobile Sto giocando anche a Fortnite Mobile Ultimamente ho ripreso con l'iPad Giocare anche su Apex è una cosa che mi interessa un sacco Non vedo l'ora di provarlo E tra l'altro penso che questa idea sia arrivata ad EA Soprattutto perché sa che in Asia il mobile gaming va tipo fortissimo Quindi rilasciare questo gioco su mobile Soprattutto per quelli in Asia Pensano già che sarà un successone Detto questo raga aspetto la vostra Ditemi se anche voi lo scaricherete Ovviamente un bel like raga se volete rimanere aggiornati Se volete che io vi faccia rimanere aggiornati Sull'eventuale data sui dispositivi compatibili eccetera eccetera Qui sotto al videozzo Detto questo siccome non volevo smettere subito con il video Magari andiamo a farci qualche partitina raga Mi faccio qualche partitina su Brawl Stars ok Apremo Brawl e andiamo a giocare un po' con il nostro Spike Mentre voi raga qui mentre sto sistemando l'iPad Scrivetemi qua sotto un commento dicendomi cosa ne pensate Se può davvero funzionare questo game raga Anche su dispositivi mobile Già me lo immagino sul mio iPad 11 pollici Sarà una figata assurda raga secondo me sarà un bel game su mobile Ma aspetto comunque la vostra Detto questo ragazzi riprendiamo con il nostro bel Spike rosa L'ho alzato ragazzi l'ho alzato a livello 6 Ho deciso di alzarlo perché volevo giocarci seriamente Dunque eccoci qua quasi maxato anche il nostro leggendario Spike Ragazzuoli dai abbiamoci questa partitina Magari ci facciamo una bella gem grab con i random Non importa ci proviamo speriamo di non droppare dunque vamonos Mi raccomando raga voglio leggere la vostra qua sotto Allora eccoci qua Allora c'è una tara attenzione una nita una nita c'è una tara maxata tra l'altro Ok quindi sarà brutto entrare nel vortice Intanto vediamo se riusciamo a far fuori questa nita Attenzione tanti colpi di Jesse che sa che sono lì e vuole assolutamente colpirmi Allora vediamo vediamo 3 a 1 non è male la situazione non è male non è male Bella sta ulti ottimo Quasi tutti down attenzione Grande intanto Pam che pusha potentemente così Boom ok Bene colpiamo intanto Tara così Non facciamola avvicinare Ottima la ulti ragazzi ottima Uh bello 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 bel match questo bel match Vediamo se riusciamo a colpirlo con le spine che volano nell'aria Attenzione intanto una Jesse che si avvicina Stiamo attenti stiamo attenti Lanciamo questa ulti di qua così Intanto vado fuori Ah una nita tattica però Pam non riesce a prendere tutto quanto Bene bene curati Pam 9 a 1 9 a 1 stiamo attenti stiamo attenti Nita ha fatto il giro prima non glielo permettiamo di nuovo Ok 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 Facciamo così facciamo fuori intanto nita Siamo a 9 quindi possiamo perdere un po' di tempo Facciamo intanto che ci dividiamo non tutti insieme Se no è un bel casino Aia aia Jesse aia Jesse Ok Aia la vedo bruttissima la vedo bruttissima Ok 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 no abbiamo perso tutte le gemme Ma stai scherzando spero No No non ci credo non ci credo No la spina non l'ha preso Non ci credo la spina non l'ha preso Come ha fatto a perdere le gemme Pam ti prego No 24 no non ci credo Non le prendo tutte Se no riperoni Meno male che c'era ancora l'effetto della mia ulti Meno male raga Meno male Oh mai Oh mai Ok Uh Raga Meno male Meno male Si sente che Spike non è più livello 1 vero? Ci siamo Vaglia di nuovo così Allora Oh c'hanno Pam anche loro Mortis interessante Ma Mortis è la cura Ok Potrebbe andare bene in realtà eh Potrebbe andare bene Shit Allora Vediamo un po' Un bo Ok posso ricaricarla ulti con il primo volendo se riesco Anche con Pam Però attenzione perché Si stanno già prendendo tutte le gemme Ah le mine Attenzione alle mine Attenzione alle mine Ecco lì infatti Attenzione alle mine Facciamo così Ma andiamo via sto il primo va Ce la faremo Ouch Questa è dura Questa è dura ragazzi Questa è dura con le mine poi Vediamo se con la ulti così Uh Attenzione Ecco Ste mine Non è possibile raga Queste mine però Ok Ulti tattica presa Facciamo così Non facciamo avvicinare Pam Guadagniamo terreno Attenzione bo Che entra subito nella mia Nella mia trappola GG E' il primo carica pure la ulti Facciamo così Ulti tattica così Attenzione a bo Pensiamo a bo Un attimo Aia le mine Le mine le mine le mine Aia 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 5 a 9 raga 5 a 9 Attenzione Attenzione Pam No lo riesco a prenderla Lo riesco a prenderla Ok Attenzione 8 a 9 raga 8 a 9 GG Attenzione Attenzione al primo Ulti tattica di qua Ulti tattica di qua Attenzione Attenzione 9 a 9 9 a 8 Scusate No Non morire No ragazzi C'ho 9 gemme Non posso più far niente Praticamente Ah Aia Eh no Non c'ho vita No Non ce la facciamo No 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 9 a 11 No ragazzi 9 a 11 Dai Era un bel match Questo No No Ok Dai Va bene Va bene Ci riproviamo Ragazzi Ci riproviamo Allora Abbiamo ancora Mortis Attenzione Nita C'hanno ancora Boh Quindi ancora Mine per noi Fantastico Vediamo se ce la facciamo Intanto Una tale Quasi Quasi Down Quasi Down Quasi Down Ci ho provato a mandare L'ultimo colpo Ma non ce l'ho fatta 3 a 0 Attenzione 4 a 0 4 a 0 Aia Aia Intanto Jesse Jesse Nita Bravo Mortis Ok Attenzione 32 di vita Grande Nita Ok Era senza vita Quindi ci sta Facciamo una cosa Facciamo una cosa Recuperiamo un attimo vita Va Poi facciamo così Attenzione Jesse Ok Down Jesse Attenzione Attenzione Ok Ultitattica Di qua Jesse Dai che la recuperiamo Dai che recuperiamo Le gemme perse Prima Detto I trofei Anzi Dai 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 6 a 5 6 a 5 Dai Bello Bello Mortis Bello No Forse Revalidino Ouch No ragazzi No Non posso crederci Non posso crederci Vai Mortis Ma torna indietro Mortis Ok Torna dietro Maledizione Mortis Oh Mai Oh Non ho lanciato L'ultima Non male Recuperate Coppe recuperate Ragazzi Ok Noi ci vediamo Prossimamente Di nuovo Fatemi sapere Cosa ne pensate Di Apex Legends Su mobile Ciao ragazzi